Alberto, sì, Alberto, sì Porni e c'è il pacchetti Con verdini, rosato e cera C'era un gol Don Menghini e Mazzola Don Insegna Rivera In banchina In banchina Con zoffo Uffa, ci alleniamo, ci alleniamo e poi non giochiamo mai, mai Lo sai che il presidente De Gregorio si sta cercando un nuovo titolare? Ha licenziato uno Dai, sì, sì, infatti È il presidente Io vado, mi ha fatto da titolare No, Chiara, aspetta, ti prego, una volta C'è, Lorena, una volta, fammi provare, ti prego Mamma mia Vabbè, dai, è importante l'amicizia, giusto? Vabbè Cos'è un po' da titolare, in fondo? Vado, allora Ok, dai, vai Grazie, Chiara Ciao E invece no Aspetta un attimo Ma che state combinando? Eh, l'autominali E' l'emersione E' l'ultima volta che lo dico S'allinano Se ne abbiano un piede, s'allinano Io queste due non le prendo neanche come se mi ammazzano Gentili amici, ben collegati dal vostro bisteccone Galeazzi Stiamo per assistere al torneo Qualificazione olimpica dei 100 metri Stile libero, doppio visto di Adel e Chiara Pronti ai blocchi? Partiti! Ecco, la sovacquea di Chiara è veramente perfetta Mentre vediamo che Adel è andato pronto Ma non vedo più Chiara Non so, forse è una tecnica tutta particolare Non ci sono problema, andiamo a seguire il nostro amico Adel Che intanto sta per toccare i 50 metri Ultima lasca Attenzione, l'attenzione si taglia col coltello Coltello roba da bagnabe, mi piace, lo sapete Ecco l'Adel Incredibile, Chiara, Chiara E va a vincere perché ha adottato la tecnica di apnea Persistente, prolungata Grande Chiara, vince il torneo Sicuramente al fotofilice Cesaro Replay, ecco qua E infatti, come ti dicevo io Dai ragazzi, vince Chiara Per aver contato la sua tecnica meravigliosa E voi visto che state Vado a bagnare un tiramisù con facioli e le sarcicce Ciao a tutti e viva le Olimpiadi Dai Ancora reti bianche tra Bologna ed Inter Il movimento dell'Inter è piuttosto buono Grazie alla rapidità con cui si muovono tutti E certe ripeture in velocità per le punte Sia Alto Belli che Morano Stanno costringendo la difesa bolognese Un impegno piuttosto attento Scusi Non è che ci fa una foto anche a noi Ma che ci vuole? Due secondi ha fatto una foto Hai ragione però Non si perdere Non posso perdere la partita Non posso Una cosa abbiamo chiesto Devo stare Una foto Devo seguire Mi posso dire una cosa Non è che siccome lei è un grande fotografico No no ma che si vede Ma che modo di fare è? Esatto perché non si gira di qua Ma ce la fa sta foto o no? Ci mettiamo in pose ragazzi Dai in foto Dai tutto un po' bella In una gamba così Così bella così in poca No così Anche più così Uniti così bravi Più ben stretti Va bene va bene così Ciao ragazzi di salute Aspetti Identista 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 Ciao ragazzi di salute Ciao ragazzi di salute